Bentornati nel canale La Vita Curiosa. Prima di iniziare questo nuovo video clicca su Mi piace e iscriviti al nostro canale. Una tragica notizia ha scosso la giornata odierna con la scomparsa dell'influencer Gian Maria Sainato, che questa mattina è stato vittima di un annegamento sulla spiaggia di Sapri. L'evento drammatico ha coinvolto suo padre, Andrea Sainato, il quale è stato coinvolto nell'incidente che ha portato alla morte del giovane. Gian Maria aveva raggiunto una certa notorietà grazie alla sua partecipazione all'Isola dei Famosi nel maggio di quest'anno. Tuttavia, oggi la spiaggia di Sapri si è trasformata in uno scenario di tristezza e dolore. Verso le 10 di questa mattina, il 29 agosto, Andrea Sainato, 59 anni, padre di Gian Maria, si è tuffato nelle acque del mare lungo il tratto costiero vicino al parco giochi. Purtroppo, il mare era agitato a causa delle condizioni meteo avverse. Le circostanze che hanno portato all'annegamento non sono ancora chiare. Potrebbe essere stato il moto ondoso o forse un improvviso malore che ha colpito l'uomo. In un tragico epilogo, Andrea Sainato è finito sott'acqua e non è più riemerso. È stato un poliziotto fuori servizio, anche egli presente sulla spiaggia di Sapri, a dare l'allarme. Immediatamente, ha contattato il personale del 118, ma purtroppo per il padre di Gian Maria non c'è stato nulla da fare. Questa tragedia ha lasciato una comunità in lutto e un vuoto nei cuori di coloro che conoscevano Gian Maria e la sua famiglia. La spiaggia di Sapri, che spesso è stata teatro di momenti di svago e felicità, si è trasformata oggi in un luogo di dolore e riflessione. La notizia rappresenta un duro colpo, sottolineando quanto sia preziosa la vita e quanto possa cambiare improvvisamente. In questo momento difficile, i pensieri vanno alla famiglia Sainato, che sta affrontando una perdita così tragica. La comunità si unisce nel dolore e nell'augurio che possano trovare la forza di affrontare questo momento difficile insieme. Grazie di aver visto il video e rimani sintonizzato per non perderti le prossime novità.